Tragedia sfiorata ieri sera sulla strada statale 170 che collega Andrea Barletta, proprio in direzione della città di Eraclio. Un grave incidente stradale poco dopo le 19 nei pressi dello svincolo per Montaltino ha provocato ben 5 feriti, tutti andriesi e tutti trasferiti in codice rosso ed in gravi condizioni tra gli ospedali di Barletta e Biceglie. Secondo una primissima ricostruzione, infatti un motociclista a bordo di uno scooter avrebbe perso il controllo terminando la sua corsa per terra a centro strada. Alle sue spalle una vettura, una punto, si sarebbe fermata a bordo strada per soccorrere proprio il motociclista ferito, ma alle loro spalle ancora sono arrivate invece altre due vetture, tra cui una che ha colpito in pieno sia l'appunto che lo scooter. Solo per un caso, insomma, non vi sono conseguenze più gravi, se non tanto spavento, 5 feriti con diversi traumi e fratture e mezzi completamente distrutti. Sulla dinamica tuttavia indagano ancora gli agenti della polizia locale di Andrea, impegnati ieri sera sino a tardi per i rilievi e lo sgombero della carreggiata completamente bloccata per diverse ore. Necessario e provvidenziale anche l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Barletta, intervenuti proprio per estrarre dalle lamiere assieme ai soccorritori delle equip sanitarie del 118 di Andrea Barletta un paio di feriti. Traffico completamente deviato in direzione Barletta sulla complanare.